Salve a tutti gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Polis, appuntamento 18, il nostro primo piano sulla politica. Nella puntata di oggi ci concentreremo su un tema che stranamente il mainstream non ha analizzato approfonditamente, forse distratto dai panettoni della Ferragni o il gran giurì di Conte, e cioè il piano Mattei. Il piano Mattei che è diventato legge a inizio gennaio, inizio 2024, e che cercheremo con i miei ospiti di analizzare approfonditamente e spiegarvi. Io sono Massimo Antonio Cascone e questa è la nostra sigla. Allora come ogni puntata ovviamente partiamo dalla carrellata di news della settimana e iniziamo da una notizia appresa ieri che purtroppo ci fa ripiombare nuovamente nel clima distopico vissuto negli anni scorsi. Mentre a Davos infatti i potenti del mondo lanciano l'allarme sulla malattia X che colpirà l'umanità nei prossimi anni, il governo Meloni corre ai ripari per non farsi cogliere impreparato, aggiornando il piano pandemico prossimo alla scadenza fino al 2028. Al centro dell'aggiornamento le indicazioni fornite dall'OMS per tutelare la salute pubblica con al centro, manco a farlo apposta, sia i vaccini, definiti come la misura preventiva più efficace, che le ipotesi di limitazione delle libertà dei cittadini in caso di necessità. Il piano pandemico, attualmente soltanto in bozza e al quale dedicheremo la prossima puntata per approfondire il testo definitivo, è stato definito dalle opposizioni un copia e incolla di quello utilizzato dall'ex premier Cunte dal 2020 in avanti. Rimanendo in tema di distopie, sempre ieri Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il fondatore di Microsoft, nonché attuale più grande proprietario terriero privato di terreni agricoli d'America, Bill Gates. Bill Gates che si è regato a Palazzo Chigi nell'ambito del ciclo di incontri sull'intelligenza artificiale, che sappiamo essere uno dei temi principali dell'agenda del G7 di quest'anno, quest'anno che vedrà il G7 a presidenza italiana. Previsto per oggi invece un incontro tra il miliardario e il presidente della Repubblica, Mattarella. Parlando di incontri, il 17 gennaio Giorgia Meloni ha accolto a Forlì Ursula von der Leyen, concedendole la passarella d'onore in occasione della firma dell'accordo di coesione tra il governo e la regione Emilia-Romagna, che vede destinati alla regione 687 milioni di euro nell'ambito di un investimento totale di circa 1,2 miliardi spalmati nei prossimi anni, destinati alla difesa idraulica e al ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali. Il tutto, ha spiegato la Premier Meloni, è stato possibile anche grazie alla revisione dei progetti del PNRR. Rapporti con la Presidente della Commissione Europea, tutto sommato quindi distesi, nonostante ancora non abbia trovato soluzione la questione delle concessioni balneari. Come vi avevamo detto la scorsa puntata, il 16 gennaio era l'ultimo giorno entro il quale il governo avrebbe dovuto comunicare la propria posizione. Ieri, giovedì 17 gennaio, l'esecutivo Miloni di tutta risposta ha dovuto chiedere che, nonostante la scadenza dell'ultimatum, necessitasse di più tempo, inviando alla Commissione Europea una lettera dove appunto si richiede più tempo per definire meglio la mappatura delle coste della penisola italiana anche in base ai parametri e criteri forniti dall'Unione per stabilire quindi se c'è o meno scarsità del bene demaniale dopo la bocciatura ricorderete del primo report fatto dal tavolo tecnico negli scorsi mesi. La questione sembra quindi destinata a perdurare per tutto il 2024, periodo richiesto dall'Italia a meno che Bruxelles non decida di forzare la mano andando a deferire l'Italia alla Corte di Giustizia Europea dando quindi seguito alla procedura di infrazione. Tra le altre interessanti novità della settimana, inoltre segnaliamo che il governo ha autorizzato la cessione della rete TIM al fondo infrastrutturale statunitense KKR spacciandola per mossa voluta a tutela dell'interesse nazionale proseguendo la Commissione di Giustizia del Senato ha approvato mercoledì l'articolo 2 del DDL Nordio che punta a vietare la pubblicazione delle intercettazioni nel più ampio quadro di riforma della giustizia. Il provvedimento è atteso poi in aula la settimana prossima. Ieri invece c'è stato il definitivo via libera alla legge contro le eco-proteste. La Camera ha approvato in via definitiva con 138 sì il disegno di legge di conversione del decreto che introduce sanzioni più severe con carcere fine a 5 anni per chi imbratta o deturpa beni culturali e paesaggistici. La conversione era già stata approvata dal Senato lo scorso 11 luglio tra le prossime mosse del governo e infine la possibilità di introdurre lo scudo penale per i medici tra gli emendamenti al mille proroghe. Chiudiamo infine con un commento su come si stanno muovendo i partiti di maggioranza in vista delle prossime elezioni regionali. Nei giorni scorsi sembrava che Lega e Fratelli d'Italia fossero i ferri corti a causa della nomina dei candidati con al centro la Sardegna a fare d'ago della bilancia. Lo scontro che si stava per consumare vedeva da un lato Paolo Tuzzo già sindaco di Cagliari prescelto da Fratelli d'Italia come candidato e dall'altro il governatore uscente Solinas sul quale la Lega puntava per la ricandidatura. Alla fine è notizia di ieri che a spuntarla è stato Tuzzo che sarà sostenuto quindi da tutto il centrodestra unito anche a causa dello scandalo che ha investito Solinas ufficialmente indagato per un'inchiesta di un anno fa che ha visto mercoledì la finanza disporre il sequestro cautelare dei beni immobili del governatore uscente per un valore di circa 350.000 euro. Al centro del confronto del centrodestra largo anche la questione del terzo mandato necessaria alla Lega per confermare Zaia in Veneto. Sul punto però al momento c'è il secco no sia di Forza Italia che di Fratelli d'Italia. Seguiranno sicuramente i nostri aggiornamenti appena il quadro sarà più completo. Queste erano le principali notizie della settimana. Adesso il servizio di puntata. Con la spada di Damocle dei balneari che ancora pende sulla testa del governo la Menoni ha deciso di volgere il suo sguardo a Sud per provare a dare nuovo vigore al suo operato. L'Africa come sfida del prossimo futuro è uno slogan che abbiamo sentito ripetere molte volte nel corso degli anni. Anche se raramente qualcosa si è mosso davvero, quantomeno in Europa, ormai relegata a semplice terra di sbarco di centinaia di migliaia di immigrati. Il primato europeo nel continente nero appartiene al passato. Gli africani, con l'aiuto di Cina e Russia, spingono per ottenere il proprio posto al tavolo dei consessi internazionali. E l'Italia, come il resto di Europa, è rimasta troppo a lungo a guardare inerte. Servono nuovi approcci, nuovi piani d'azione. E per questo, dopo l'intesa definitiva sul nuovo patto sull'immigrazione raggiunta dai leader UE prima di Natale, Adesso, per Fratelli d'Italia, è arrivato il momento di mettere in atto il tanto declarato Piano Mattei, diventato ufficialmente legge a inizio 2024. Un progetto, quello di Giorgia Meloni, sicuramente ambizioso, a conferma di un suo approccio deciso nel trovare soluzioni dopo un 2023 che ha visto raddoppiati gli sbarchi e ha messo in mostra tutta l'impreparazione del governo nel fronteggiare il problema immigrazione, destinato ad aumentare nei prossimi anni. L'obiettivo dichiarato è rendere l'Africa, o quantomeno alcuni dei suoi paesi, economicamente florida, attraverso la strutturazione di Partnership Win-Win sul modello cinese. Tutto molto bello, ma allo stesso tempo fumoso. Non esitano a ribattere le opposizioni, che sottolineano come ci sia più di una falla in questo piano Mattei, tra cui principalmente la mancanza di risorse economiche per poterlo attuare e una non chiara definizione delle modalità per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il tutto in un quadro geopolitico in grande fermento e che sicuramente restringe i margini d'errore. Giorgia vincerà la scommessa? O il piano per l'Africa è destinato ad essere bollato come pura propaganda? Eccoci tornati in studio, saluto subito e do il ben ritrovato ai miei ospiti, il professor Luca Lanzalago, buongiorno. Buongiorno. E l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce, buongiorno Umberto. Buongiorno a te. Allora, come dicevo all'inizio e come anche il servizio ovviamente riportava, la puntata di oggi la incentriamo sul piano Mattei del governo Meloni, un piano per l'Africa che insomma Giorgia Meloni sta da tempo sponsorizzando e che finalmente trasformato in legge potrà iniziare ad attuare. Prima però ovviamente volevamo rendere omaggio alla figura di Enrico Mattei ricordando quella che è stata la tragedia del 27 ottobre 1962 quando con il suo aereo ebbe un incidente, diciamo, questa è la versione ufficiale, e precipitò a Bascapè. Vediamo questo breve video. 27 ottobre 1962 a Bascapè, in provincia di Pavia, muore Enrico Mattei, fondatore e presidente dell'ENI. Il suo bi-reattore si schianta al suolo, con lui perdono la vita il suo pilota e il giornalista William McHale, come riportano i giornali del tempo. Mai chiarite le cause dello schianto, tante le ipotesi, tra queste anche quella di un sabotaggio. 56 anni un passato nella resistenza per liberare l'Italia dal nazifascismo e decorato al valore partigiano dal generale americano Clark. Nominato commissario dell'Agip l'Agenzia Generale Italiana Petroli, con l'ordine di metterla in liquidazione, Mattei non lo fa, anzi propone le ricerche che portano alla scoperta del metano in Valpadana, un uomo coraggioso che sfida il monopolio delle sette sorelle, le sette più grandi compagnie petrolifere di tutto il mondo. L'Italia entra tra le grandi aziende energetiche. In un'intervista rilasciata a Gianni Granzotto nel 1960, disponibile negli archivi dell'ENI, spiega l'arroganza dei potenti. Lo guardai, li cancellai e gli dissi, io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci, però dico lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita, perché noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di lavorare e non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. Ecco, una tragedia che ancora oggi non trova spiegazioni e che come tante diciamo vicende della storia italiana e non solo. Un nome è quello di Mattei che comunque in qualche modo è stato utilizzato, viene utilizzato dal governo comunque per sponsorizzare questo piano, quest'approccio nei confronti del grande paese Africa, del grande continente africano. e allora io voglio farvi vedere come Giorgia Meloni presentò questo piano a novembre, quando ancora era un decreto, con questo secondo video. Prego Giulio. Il piano Mattei riguarda il più significativo progetto strategico che questo governo abbia messo in campo a livello internazionale, a livello geopolitico. Il piano Mattei, ormai lo sapete, è una piattaforma programmatica operativa sulla quale costruire un parternariato equo e paritario con le nazioni africane per favorire lo sviluppo e andare alla base delle cause della migrazione. Abbiamo lavorato su questo piano fin dal nostro insediamento, dobbiamo arrivare ora alla sua stesura definitiva, alla sua finalizzazione, chiaramente raccogliendo il contributo anche delle nazioni africane, dei paesi terzi, e portare quel piano in Parlamento. Per fare tutto questo, visto che il piano Mattei coinvolge molti livelli di governo e ha bisogno di un coordinamento centrale, abbiamo istituito e organizzato un'apposita governance. Previsto una cabina di regia a Palazzo Chigi, è presieduta da me o in subordine dal Ministro degli Esteri, è composta da tutti i ministri competenti, dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, dalle varie agenzie e società dello Stato che si occupano di cooperazione e sviluppo, rappresentanti delle imprese a partecipazione pubblica, università, ricerca, terzo settore, esperti di materie, delle materie che verranno trattate. Questa cabina di regia avrà il compito di coordinare l'attività del governo, aggiornare il piano, monitorare la sua attuazione negli anni e approvare la relazione che ogni anno andrà mandata in Parlamento. Insomma, per un progetto serio serviva un'organizzazione seria, e questo è un progetto serio, perché il piano Mattei rientra in una strategia più ampia di questo governo ed è propedeutico a molte altre iniziative che stiamo portando avanti. Penso alla Conferenza Italia-Africa che abbiamo in programma per il prossimo gennaio, penso ai seguiti della Conferenza su sviluppo e migrazioni che abbiamo organizzato a Roma lo scorso luglio, ma penso soprattutto al 2024 quando arriverà la Presidenza italiana del G7, in cui chiaramente l'Africa e il tema delle migrazioni saranno centrali, chiaramente la Presidenza italiana del G7 si sviluppa lungo tutto l'anno con diverse iniziative dei vari ministeri. Il momento centrale, cioè il G7 dei leader, approfitto per annunciare che sarà dal 13 al 15 giugno del 2024 in Puglia, nella Valle d'Itria, a Borgo e Ignazia. Allora, ecco come voglio ricordare agli spettatori, questo video è stato fatto a novembre, quando Giorgia Meloni presentò il decreto sul piano Mattei e oggi poi, all'inizio del 2024, è diventato ufficialmente legge. Professore, le chiedo di farci una panoramica, se conferma le parole di Giorgia Meloni, se questo grande progetto italiano per l'Africa ha un fondamento di autorevolezza, se c'è una visione a lungo termine da parte del governo Meloni, oppure se siamo di fronte a una forte propaganda. Dunque, procedendo con ordine, partiamo appunto dal nome del piano, cioè Enrico Mattei. Enrico Mattei era un democristiano di sinistra, vicino alle posizioni di Lapira, e il suo progetto era un progetto non commerciale, non meramente economico, ma era un progetto politico, cioè si inseriva fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 nelle politiche di decolonizzazione, cioè era un disegno fortemente anticolonialista. Il punto cardine di questo, l'obiettivo era quello di scalzare l'oligopolio delle sette sorelle, cioè le compagnie petrolifere, che sfruttavano le risorse del continente africano. Il punto, il cardine di questo sfruttamento, era dato dalle quote di ripartizione dei proventi del commercio in materie prime e energie. Cioè Mattei, parlando di numeri, perché di questo si tratta, voleva sostituire la ripartizione 75-25, cioè 75% dei proventi alle compagnie petrolifere, alle sette sorelle, 25% agli stati africani, lui aveva proposto agli stati africani 50-50. Quindi un forte riequilibrio a favore degli stati africani nella suddivisione dei proventi. Quindi questo è importante. Il piano Mattei si inseriva in un progetto più ampio, realmente geopolitico, e dopo spiego perché dico realmente geopolitico. Ecco, veniamo, quindi punto uno, io lo definirei un uso improprio, un'appropriazione indebita di un'etichetta, perché il piano Mattei di Giorgia Meloni, sebbene sia interessante, sia da prendere in considerazione, non si colloca affatto in un disegno strategico più ampio come era il vero, l'originario piano Mattei. Entriamo nel merito. Ecco, gli obiettivi del piano sono ambiziosissimi e cioè promuovere lo sviluppo dei paesi africani, degli stati africani. Poi se la regia è d'accordo, se la redazione è d'accordo, mettiamo in descrizione il testo della legge. assolutamente. Prego, vi invito a leggerlo perché si capisce la genericità del progetto, cioè si parla di collaborazione con gli stati africani, gli stati africani sono più di 50, forse sarebbe bene capire quali stati africani, anche perché buona parte di questi sono legati dalla valuta, dal franco sefa alla Francia, quindi sarebbe interessante capire che cosa, quali stati. Comunque, promuovere lo sviluppo, contrasto alle migrazioni irregolari e gestione di quelle illegali. Ora, praticamente, obiettivi a 360 gradi e queste ambizioni che a mio parere sono pericolose perché sono troppo ambiziosi come obiettivi. Lo si evince dall'elenco, qua vi faccio perdere due minuti, però le leggi bisogna leggerle, bisogna conoscere e se andiamo a vedere il contenuto, cioè quali sono i campi in cui intende di cui intende occuparsi Piano Mattei. Ve li leggo tutti perché meritano. Allora, sono 13, cooperazione allo sviluppo, promozione dell'esportazione e investimenti, istruzione e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile, ovviamente deve essere sostenibile perché se no non sarebbe di moda, delle risorse naturali, include quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente, adattamento ai cambiamenti climatici, è un po' di green, ci va anche in Africa, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, è interessante notare che questa aggiunta anche digitali è stata fatta nel passaggio da decreto a legge, è uno dei punti dove si è individuato digitale, quindi digitalizzazione, transizione digitale per l'Africa, sappiamo che è il principale problema, valorizzazione e sviluppo del paternariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, di nuovo un po' di ecologia non fa male, sostegno all'imprenditoria in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione e prendo un attimo il fiato, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, facevano prima dire di che cosa non intendevano occuparsi perché c'è veramente dentro tutto questa lista di ambiti d'azione è veramente preoccupante perché sappiamo che quanto più sono ampi la sfera quanto più ampia la sfera d'azione tanto più l'azione è destinata in generale all'insuccesso comunque l'inquietudine aumenta se si guarda appunto la struttura di governance come ha detto Giorgia Meloni sì c'è questa cabina di regia elefantiaca anche qui anzi qui non vi faccio perder tempo chi vuole vada a vedere appunto la gazzetta ufficiale l'articolo corrispondente c'è un elenco spaventoso è molto generico fra l'altro in alcuni casi è preciso ma in altri molto generico di componenti della cabina di regia anche qui una delle poche leggi della scienza politica della scienza dell'amministrazione quanto più pletorica un organo tanto meno sarà efficace ma a fianco della cabina di regia ci sta un'altra struttura che Giorgia Meloni non ha menzionato almeno in questo video e cioè la struttura di missione questo è un termine che piace molto al governo l'abbiamo già trovato la struttura di missione è una tecnocrazia ed è l'unico organo l'unico aspetto di tutto il piano Mattei che viene descritto minuziosamente questa è curiosa come cosa cioè si dice che questa struttura di missione sarà composta da 19 persone di cui 4 dirigenti 15 persone in posizioni non dirigenziali cioè addirittura hanno già delineato l'organigramma e costerà una una paccata di soldi perché è prevista una spesa circa di 2 miliardi e mezzo di di euro e questa struttura di missione dovrebbe essere di supporto alla cabina di regia ovviamente il rapporto fra organo politico e organo amministrativo è prevedibile che si invertirà come succede normalmente in politica quindi sarà opportuno andare a vedere chi c'è dentro effettivamente a questa struttura di missione ripeto l'unica cosa descritta con precisione è la struttura di missione detto quindi fatte alcune critiche a piano Mattei io vorrei però spezzare una lancia a favore del piano Mattei e criticare invece il modo in cui l'opposizione ha affrontato questa proposta perché spezzo una lancia a favore perché col piano Mattei ha dati tutti i suoi limiti non è che mi sto rimangiando quanto detto però nonostante questi limiti il piano Mattei rompe una lunga tradizione in Italia di paradigmi di policy nel campo delle politiche dell'immigrazione finora qua è manualistica non sto inventando nulla non sto creando nulla ci sono tre paradigmi di politica pubblica in competizione fra di loro uno che è quello strisciante che è l'accoglimento indiscriminato mi piace tanto alla sinistra al PD che è avvenuto quest'anno nonostante il governo di destra quindi l'accoglimento indiscriminato il respingimento indiscriminato quello diciamo Salvini e l'accoglienza selettiva che è quella che dice prendiamoli perché sono una risorsa e prendiamo quelli che ci servono ci pagheranno le pensioni fanno i lavori mal pagati che gli italiani non sono più disposti a fare ecco c'è questo accoglimento il piano Mattei introduce un quarto paradigma di policy e gli dà un minimo di concretezza criticabile ma un minimo di concretezza c'è e cioè il famoso aiutiamoli a casa loro allora questa proposta a mio parere va presa sul serio cosa che l'opposizione non ha fatto cioè la dichiarazione più roboante è quella di Angelo Bonelli deputato alla Camera Alleanza Verdi e Sinistra che dice il piano è una nuova forma di colonialismo crevatorio di sfruttamento delle risorse naturali ai danni dell'Africa per prendere gas e petrolio e portarlo in Italia ecco qua questa è una posizione sbagliata perché contemporaneamente che cosa dice invece il PD arriva al massimo a dire guardate che è una scatola vuota e allora davanti a una scatola vuota un'opposizione un minimo intelligente che cosa fa cerca di riempirla di propri contenuti no? inizia a dire va bene ragioniamo sulle cose se è un contenitore vuoto e è un contenitore vuoto allora discutiamo di come riempirlo mentre invece etichettarlo come una forma di colonialismo Bonelli evidentemente non sa che cosa è stata la tragedia del colonialismo non sono stati accordi commerciali è stato molto ma molto peggio ecco quindi c'è questa posizione occusa dell'opposizione e di rifiuto radicale e vorrei concludere con una quella che a mio parere è la vera grossa lacuna del piano Mattei e cioè che non è collocato minimamente nello scenario geopolitico mentre il piano Mattei originario chiamiamolo no quello fino ai anni 50 si collocava in uno scenario geopolitico ben preciso c'è la fase importante diciamolo gloriosa della decolonizzazione questo piano non si capisce a livello geopolitico dove si colpi cioè sembra che il governo Meloni ignori alcune cosette importanti che appunto i paesi più importanti dell'Africa sono legati strettamente dalla valuta alla Francia primo secondo la Cina si sta comprando metà la parte restante dell'Africa land grabbing di questo ne parliamo o no terzo è stato poi rimandato surrettiziamente con la scusa della pandemia al 2027 doveva avvenire già nel 2023 una valuta africana non dipendente più dal Franco francese e sostanzialmente quindi dall'euro perché questo il Franco sefa è una propagine l'euro ecco tutto ciò aggiungiamo altre cose che esiste una specie di fondo monetario internazionale in senso lato fondo monetario internazionale per i paesi africani che dovessero avere difficoltà finanziarie ed è finanziato in yuan moneta cinese e nel dibattito molto interessante tra l'altro poco conosciuti in Italia ma molto interessante su quella che dovrebbe essere la nuova valuta africana è intervenuta la Russia dicendo ma perché state a pensare a una nuova valuta ci sono i rubli allora in questo scenario il piano Mattei fa tenerezza direi ecco per non dire altro no? cioè è completamente estrapolato da uno scenario geopolitico importante serio perché l'Africa diventerà il baricentro della politica a livello globale la grossa partita si giocherà in Africa e il piano Mattei così come disegnato tracciato dal governo Meloni ripeto è misero è poco significativo è così sembra un gioco per bambini ecco non un piano serio di intervento penso ecco che questa sia la vera grossa lacuna del piano Mattei professore grazie mille per questo interessantissimo intervento ha fatto una panoramica davvero importante andando a toccare molti punti sono curioso di ascoltare anche l'opinione del nostro avvocato Umberto Giannucci sul piano però prima voglio farvi vedere l'ultimo video di puntata perché a proposito di questi attacchi che Giorgio Meloni ha ricevuto sul fatto che questo piano non è nient'altro che una nuova forma di neocolonialismo lei si è difesa si è difesa proprio in questi giorni successivamente la trasformazione in legge del decreto prego Giulio Mattei non ha funzionato un certo approccio come posso dire paternalistico quando non predatorio anche da parte diciamo europea che non aiuta nel dibattito e nella cooperazione con questi paesi quello che va fatto in Africa è costruire rapporti di cooperazione seri strategici da pari a pari non predatori quello che va fatto in Africa è difendere il diritto a non dover emigrare prima del diritto a poter emigrare e questo si fa con investimenti e con una strategia il piano Mattei costruisce diciamo una prima perché ripeto non è che possiamo occuparci da soli di tutto il continente africano ma costruisce questa idea ecco Umberto allora tornando dalle parole di Giorgio Meloni ma anche riallacciandoci a quello che diceva il professor Lanzalaco è vero che l'Europa ha sempre avuto un approccio predatorio nei confronti dell'Africa Francia su tutte tra i vari paesi europei mentre invece negli ultimi decenni abbiamo assistito all'instaurazione di rapporti win-win da parte di Cina Russia che insomma si sono espanse sempre di più nel continente africano in una maniera però completamente diversa rispetto a come ha fatto l'Europa nel corso dei secoli e adesso come giustamente ci diceva il professor Lanzalaco ci troviamo in un momento in cui sono loro ad avere diciamo la fetta più grande dei rapporti con l'Africa mentre l'Europa e l'Italia in questo momento in testa devono trovare il modo per ribaltare un po' quello che sono stati decenni se non secoli di predazione andando a provare a distaurare questi rapporti commerciali in maniera paritaria come diceva Giorgio Meloni e quello di Giorgia è quindi un progetto che ovviamente vede l'Italia in testa ma che dovrebbe in qualche modo andare a fare da guida all'Europa nella sua totalità qual è la tua opinione pensi che questo approccio da parte di Giorgio Meloni sia valido l'Europa poi secondo te come si muoverà da questo punto di vista come diceva anche la Meloni nel video tra le difficoltà che ha indicato il professore io avrei aggiunto ancora due e una è appunto secondo me la difficoltà di trovare interlocutori africani disposti a credere nella buona fede del governo italiano dopo decenni di sfruttamento e di colonialismo anche mascherato da aiuti economici perché sappiamo benissimo che spesso negli ultimi decenni gli interventi del Fondo Monetario Internazionale sono serviti in realtà a colonizzare settori economici e diciamo a imporre privatizzazioni con debiti non ripagabili fondamentalmente quindi non stupisce poi che ultimamente vari paesi si stiano rivolgendo a diciamo tra virgolette nemici dell'Occidente per aiuto e protezione e qui si situa la seconda ordine di difficoltà che diciamo come ricordava anche il professore è costituita dal fatto che in realtà ormai la vasta parte del continente africano si è già rivolta stabilmente a Cina e Russia e in particolare voglio ricordare notizia di ieri che il Niger che recentemente si è rivoltato contro il governo filo occidentale ha ieri firmato un accordo militare con la Russia e questo ha permesso alla Russia di completare un corridoio di stati africani con cui ha cooperazioni militari ed economiche che va da una costa all'altra dell'Africa diciamo comprendo tutto il Sahel e comprendo un corridoio che va da costa a costa in Africa e che è anche costituisce anche la principale rotta della migrazione quindi di fatto ormai la Russia controlla le rotte migratorie i paesi che diciamo vengono da queste attraversate e quindi è evidente che in Africa si gioca una partita geopolitica non indifferente i limiti di questo piano sono come ricordato il fatto che in realtà è una legge cornice e quindi è una scatola vuota quindi cosa ci dice questo a me fa pensare più che altro riferimento al nome perché non credo che il Premier sia una persona ingenua Matteo è una persona che comunque ha pagato con la vita il tentativo di affrancarsi a un monopolio energetico quindi chiamare questa scatola seppure vuota in onore a Mattei di fatto è una dichiarazione politica di un tentativo dell'Italia di affrancarsi dalla sudditanza energetica in realtà sudditanza che le ha imposto di danneggiare la propria economia con le sanzioni alla Russia e ai propri approvvigionamenti di gas in particolare e quindi non c'è l'intenzione italiana di trovare una via autonoma alla propria sicurezza energetica questo tra l'altro è indiciato nero su bianco nella legge che fra gli obiettivi oltre a quello di prevenire la migrazione regolare andando a gire sulle cause prevede anche quello proprio di tutelare la sicurezza energetica e alimentare dell'Italia e in questo senso lo sta facendo evidentemente al di fuori del contesto europeo quindi io e questo è il secondo punto che diciamo vorrei toccare secondo me questa legge è una legge quadro quindi diciamo vuota ma è significativa per due motivi uno per questo ricordato della questione energetica e secondo per il modo con cui intende esercitare la governance di questo cambiamento perché in realtà non c'era bisogno di piano Mattei per creare partnership con paesi africani noi abbiamo un ministero che si chiama ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel 2014 l'Italia ha fatto un decreto o legge sulla cooperazione internazionale che appunto tra le altre cose ha aggiunto il titolo cooperazione internazionale al nome del ministero per valorizzare l'opera di appunto cooperazione internazionale che il ministero era chiamato a svolgere ma qual è la differenza? che questa norma prevedeva che il ministero degli affari esteri avrebbe realizzato questa cooperazione in rispetto dei programmi europei quindi nell'ambito delle direttive europee e prevedendo un potere di indirizzo e controllo del Parlamento cosa che il piano Mattei non c'è quindi in realtà il piano Mattei è una legge cornice che fondamentalmente serve ad accentrare in capo alla presidenza del Consiglio tutta un'operazione strategica di politica internazionale di cooperazione internazionale riguardo all'Africa sottraendola al ministero degli affari esteri e di fatto sottraendola al Parlamento e dai limiti dei programmi europei quindi in questo senso è una legge cornice sì però credo che sia significativa perché di fatto manifesta l'intenzione del Governo di accentrare sul Governo l'opera di cooperazione internazionale per quanto riguarda il settore energetico in particolare con l'Africa e facendolo svincolata dall'indirizzo del Parlamento ma soprattutto svincolata dai programmi europei quindi in quest'ottica lo possiamo forse considerare un elemento ulteriore di rottura verso la governance europea che evidentemente nelle sue scelte geopolitiche in questo momento sta danneggiando vari paesi perché il caro energia per esempio che ha cavalcato l'ondata della guerra ha danneggiato in particolare il settore industriale anche italiano ecco quindi fondamentalmente questo per dire che credo che seppur sia solo una legge cornice per cui è difficile ancora valutarla in uno specifico perché appunto non delinea ancora un piano proprio di reazione credo tuttavia che sia significativa per le intenzioni che fondamentalmente nel non detto porta avanti certo rimane comunque il nodo delle dotazioni perché poi per realizzare un piano così significativo ovviamente questa cabina di regia necessiterà di risorse ingenti che bisogna vedere come poi troverà all'atto pratico grazie Umberto molto interessante quest'ultima analisi soprattutto dal punto di vista della possibile rottura che questo piano con l'Europa che questo piano Mattei può significare chiaramente non ci stupiamo di questo ennesimo accentramento da parte del governo Meloni che comunque è una caratteristica tipica dei governi di destra ma d'altronde in una situazione come quella attuale in cui ci sono state ampie cessioni di sovranità all'Unione Europea all'Europa è chiaro che se poi un governo riesce in qualche modo a svincolarsi non è detto che sia una cattiva notizia a maggior ragione come sottolinea Vitus e poi le scelte fatte in Europa stanno danneggiando fortemente l'economia nazionale e la vita dei cittadini una su tutte la questione del caro energie da questo punto di vista sappiamo che comunque l'Italia da tempo cerca rapporti commerciali con l'Africa proprio per poter in qualche modo diventare questo famoso hub energetico dell'Europa e quindi ovviamente per cercare di riportare insomma a una stabilità dei prezzi maggiore rispetto alla situazione che stiamo vivendo adesso direi che sicuramente torneremo a parlare ovviamente di questo piano abbiamo detto una legge cornice appena verrà riempita di contenuti noi non esiteremo ad analizzarli per il momento direi che possiamo concludere la puntata in modo tale da renderla anche più fruibile in una quarantina di minuti ai nostri spettatori quindi vi ringrazio grazie al professor Luca Lanzalaco per essere stato oggi con noi grazie a voi e grazie ovviamente a te Umberto Del Noce grazie a voi grazie a tutti buona giornata arrivederci